questo è un messaggio datato primo giugno 2020 giorno di pentecoste vi starete chiedendo come mai posto adesso un messaggio così datato un messaggio che è stato dato direttamente dallo spirito santo a manuela a si vernisce e con la gentile concessione del lavoro di stefania finalmente abbiamo la traduzione del messaggio e poi successivamente anche del rosario che posterò fra magari qualche giorno ecco il messaggio manuela dice dopo la santa messa ho visto lo spirito santo nelle sembianze di un giovane di circa 16 anni indossava un abito vivido così chiaro che sembrava di acqua viva o di cristallo irradiava anche colori di luce quando il sole risplende sull'acqua o sul cristallo i colori vi si riflettono lo stesso accade con la veste dello spirito santo nella sua veste si vedevano anche piccole lingue di fuoco fatte di luce e irradiava moltissima luce di un bianco splendente aveva capelli biondo scuro lunghi fino alle spalle e il volto di gesù nostro signore in giovane età senza barba la santissima trinità ha un solo volto il padre eterno è più anziano con barba e lunghi capelli bianchi gesù lo vedo in età adulta di 33 anni con capelli color castano scuro e barba lo spirito santo lo vedo come un giovane di 16 anni dopo la santa messa egli mi ha detto porto in me tutto l'insegnamento dell'eterno padre io sono il consolatore che vi è stato annunciato dal figlio di dio e chiedo una veglia di preghiera di sette persone presso la fonte dell'immacolata di sivernis che dovranno pregare lì per un'ora nel mese di agosto dopo questa ora pregheranno altre sette persone invocate l'assistenza dell'eterno padre nel vostro tempo di tribolazione maria immacolata è perfettamente pura è immacolata e non ha conosciuto il peccato vi insegnerò il rosario alla sposa dello spirito santo maria immacolata è la sposa dello spirito santo chi venera la sposa dello spirito santo onora me qualche ora dopo lo spirito santo mi ha dettato il rosario alla sposa dello spirito santo questo messaggio è reso noto senza voler anticipare il giudizio della chiesa cattolica mi permetto di fare una piccola considerazione personale è la prima volta in tutta la mia vita che leggo un messaggio da parte dello spirito santo è capitato di ricevere messaggi da gesù dalla madonna da alcuni santi ma mai dallo spirito santo e questo mi riempie di particolare emozione e gratitudine e desidero davvero onorare la terza persona della santissima trinità registrando non solo questo messaggio e chiedendovi di diffonderlo ovunque ma di registrare anche prossimamente il rosario alla sposa dello spirito santo affinché sia onorata la vergine maria sia onorata la santissima trinità anche attraverso lo spirito santo di dio io vi saluto vi abbraccio la vostra piccola matita del cuore grazie a tutti 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 grazie a tutti